L'istituto comprensivo Tommasone Alighieri di Lucera ha celebrato la quindicesima edizione di Millumino di Meno, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata da Caterpillar, storico programma di Rai Radio 2, per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili e sensibilizzare tutti al risparmio energetico. L'edizione del 2019 è stata dedicata all'economia circolare che consiste nel riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare il fine vita delle cose. L'istituto scolastico Lucerino, diretto dalla professoressa Francesca Chiechi, ha partecipato alla manifestazione con una serie di iniziative che hanno visto coinvolte le classi terminali della scuola secondaria, mentre tutti gli alunni dell'istituto comprensivo sono stati formati attraverso l'analisi del famoso decalogo del risparmio energetico. La giornata celebrativa ha visto in mattinata la presenza dell'ingegner Nicola Goffredo della Fortore Energia, protagonista con gli alunni delle classi terze di una conferenza dal titolo Le Bioenergie. Nel pomeriggio gli alunni hanno condotto la fiaccolata simbolica del risparmio energetico, guidati dai docenti Ciro Tetta e Marino Scioscia. In piazza Duomo, dove si sono radunati alunni e insegnanti, c'è stato lo spegnimento delle luci e l'accensione delle fiaccole. Bambini e ragazzi dell'istituto Tommasone Alighieri hanno poi raggiunto la biblioteca comunale in corteo per assistere poi alla relazione sul riuso e risparmio energetico e al concerto a lume di LED.